Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo video Oggi faremo un video chiacchiere Che durerà pochissimo Perché mi devo preparare per andare a ballare a spillinga Devo andare alle 9 ed è già tardi In realtà devo ballare alle 10 Ma devo andare sempre un'ora prima per prepararmi e per riscaldarmi Poi queste sono le mie unghie Sono lunghe e ci sono i cagnolini Poi io mi sono fatte le trecce E per ballare mi dovrò fare lo cignol Niente questo video è finito Perché mi devo andare a preparare Spero che vi sia piaciuto Iscrivetevi al mio canale Mettete un bel mi piace Lasciate un bel commento E noi ci vediamo al prossimo video Ciao